Fai i bei sogni. Sono orfano di madre. Avevo nove anni quando morì. Ciao Massimo! Voglio vederla. Non può essere andata via così senza neanche salutarmi. Si sta male di nuovo. Telefone a una persona che le è vicina. Può essere lei questa persona? Io lo so quando hai sofferto. Parliamo d'altro. Tutta la vita che parliamo d'altro. Va bene a dieci anni, ma a venti, a trent'anni, a nessuno è venuto in mente di prendermi da parte e dirmi la verità. A nessuno. Nascendo andare. A nessuno. Grazie a tutti